Alessandro Casi, nuovo assessore e che assessore? Un superassessore? Lei lavorerà anche ogni tanto? Un superassessore, le deleghe sono veramente tante, importanti per il futuro della nostra città e per il bene della nostra città. Sicuramente il mio impegno da assessore sarà un impegno a 360 gradi. Sarò impegnato in maniera completa e totale sul lavoro che dovrò portare avanti in comune. Per quanto riguarda la mia professione dovrò iniziare piano piano a rallentare appunto perché il mio obiettivo è quello di portare avanti un lavoro a tempo pieno come assessore. Dato che le deleghe sono tante, l'impegno che ci metto è un impegno totale e quindi l'obiettivo è veramente importante. Ecco, come diceva, le deleghe sono tante e anche impegnative. Quale sarà la prima azione che farà l'assessore? Allora, la prima cosa è che oggi andrò a conoscere tutti i dipendenti comunali che riguardano le mie deleghe. Inizieremo a capire quelle tematiche che magari sono state affrontate e che sono in questo momento sospese. Posso fare un esempio, quelle delle opere pubbliche, via Fiorentina, il raddoppio del Baldaccio, c'è anche la Cassa della Salute. Gli impegni sono tanti, quelli che erano già stati programmati ma anche quelli che dovranno poi essere riprogrammati per andare nel futuro appunto della nostra città. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.